bella a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovo video e oggi ragazzi speciale 30 iscritti grazie ragazzi a tutti e anche abbiamo raggiunto quasi dei 2000 visualizzazioni cioè 1892 ragazzi siamo felici assai per queste 30 iscritti e ora partiamo subito con le news veloci ragazzi perché il video non può durare più di 5 minuti allora la prima news cioè le news sono la prima i gameplay che arriveranno tra poco perché noi ragazzi attiveremo la monetizzazione ma vi rispiego velocissimo la monetizzazione non è perché noi lo facciamo per soldi ma per passione lo facciamo è perché abbiamo un po' più di soldi vendendo soldi potremmo comprare più roba per fare video e poi la qualità non c'è destra non dipende da cui non c'è stato vabbè noi lo facciamo per passione i giochi saranno NBA vabbè poi cominciamo con i tuoi Minecraft e NBA 16 tutte le cose usciranno 16 l'unica cosa che usciranno sono Cars che è la serie approcata di Antonio e Minecraft per il momento fino al 16 settembre che poi uscirà FIFA e cose però dobbiamo aspettare che facciamo la versione pezzotta e poi la terza luce è la strada allora poi ragazzi allora qua dovete solo allora dovete solo mettere allora chiederlo nei commenti ragazzi voi mi consiglierete qualche libro se lo volete fare perché io posso pure non farlo perché per me è meglio perché se no non mi rompo le palle di lei libro e io commenterò il libro che c'è stato poi in un'altra luce saremo ah ragazzi poi faremo i vlog insieme ai vlog ragazzi saranno fact time tutte le cose vabbè poi commenteremo tipo partite partite metteremo partite della serie A anche delle altre leghe straniere e poi vorremmo fare gli auguroni e la nostra amica Drago 788 toche compi 108 iscritti Drago se non guardi questo video ti ammazzo assiamo il mondo eh ti ammazziamo a te ti ammazziamo ti ammazziamo però comunque auguri e ti speriamo che pota diventare qualcuno più in alto più in alto mentre noi faremo schifo al cazzo come sempre vittoria ahhh ma che cazzo è successo sale al doppio no no lo vogliamo bene lo vogliamo bene ma noi avevo 4 mila pacca ma noi avevo 4 mila pacca ma noi avevo 4 mila pacca lo volevamo bene come possiamo notare lo vogliamo bene lo vogliamo molto bene va bene in cosa ultime ma voi crederete che 1,2 e 3 siamo fratelli? no no siamo amici però da quando siamo nati noi siamo fratelli solo noi siamo fratelli e io sono il terzo fratelli ci unisciamo la vita e noi ci siamo sono il terzo fratello separato dalla nascita solo questo capito? sono stato fratelli va bene ragazzi comunque continuiamo con l'inuso dopo questo faremo anche challenge di tutti i tipi quello che volete voi di calcio e tutto poi continueremo a fare tipi da tipi tutto quello che c'è dobbiamo fare tipi da peni lunghi eh eh ma noi siamo fratelli ma dobbiamo chiamarlo così fratelli appunto spiegazioni ma ragazzi allora ragazzi questo era il video ragazzi se il video vi è piaciuto mettete like poi la sera ragazzi noi ci rivediamo ah sì c'ho ah se volevo qualche video con il biglietto con la vera ve la siamo ciao ragazzi ci vediamo ad un prossimo video grazie per i 30 iscritti lo speciale non arriverà ora faremo i 40 iscritti o i 50 ragazzi ci vediamo al prossimo video bella durante prima del canale ragazzi ci vediamo nel prossimo video calcio Vem stai? Vem stai? Ciao! Ciao!